Volontari di protezione civile in prima linea fanno durante l'emergenza coronavirus. Dal 9 marzo scorso, 7 giorni su 7, il CB Club Mattei sta aiutando la popolazione in difficoltà o costretta alla quarantena. Con circa 1.300 servizi a settimana per quasi 900 ore di volontariato, sono 33 le persone che si alternano mattino e pomeriggio per fornire, a titolo gratuito, decine di servizi al giorno. Noi in totale siamo quasi 100, gli altri però di male in cuore abbiamo preferito lasciarli a casa perché se a qualcuno di noi dovesse risultare positivo entriamo tutti in quarantena, quindi abbiamo una squadra di circa una ventina di volontari pronti a sostituirci. Dalle mascherine alla consegna di cibo, farmaci e buoni spesa sono numerose le attività che la protezione civile sta garantendo alla cittadinanza sotto la guida di Saverio Livi, presidente della Ollus e responsabile della gestione dei volontari. Dai servizi sociali del comune arrivano i mail con i contatti di persone che hanno bisogno di alimenti o altro e la protezione civile provvede alla consegna a domicilio. Se si tratta invece di esigenze sanitarie, le segnalazioni vengono girate alla Croce Rossa. Sempre operativo, le mansioni svolte dal CB Club Mattei sono le più disparate. Dalla consegna del lato parlante in casa perché l'anziano non riesce a sentire, ho il collegamento ad internet, abbiamo messo a disposizione anche un tecnico per risolvere queste cose, sia da remoto o anche personalmente. Stiamo consegnando dei computer in pratica per le scuole, anche lunedì ne andiamo a ritirare altri, sia nel nostro territorio, poi in collaborazione con le associazioni dei comuni limitrofi, ci scambiamo le cose sia con Pesaro sia con gli altri comuni, ad esempio i computer, noi li andiamo a prendere a Santa Marta, poi se sono di Fossombrone o di Calcinelli o di altri comuni vengono direttamente a prenderli qui. Andiamo a ritirare per tutti i DPI, le mascherine in regione, poi i vari comuni di tutta la provincia vengono a ritirarli. E' un po' un passo senza far venire 50-60 comuni qui, ci si aiuta in pratica fra l'organismo di protezione civile. Spesso andiamo a prendere dei medici e infermieri ad Ancona che arrivano direttamente dal dipartimento e li portiamo nelle varie zone con l'aiuto qui soprattutto della Croce Rossa perché noi per scelta non prendiamo persone a bordo perché non siamo pronti, non siamo in pratica nel nostro mestiere e quindi qui ci viene in manforte la Croce Rossa che con un bardata di DPI trasporta anche medici e infermieri.